Ciao e benvenuto a tutti sul mio canale. Oggi vi parlerò della trama delle puntate della serie turca di Terramara che andranno dall'8 al 9 aprile. Ma prima di iniziare vi invito a lasciarmi un like e ad iscrivervi al canale. Successivamente all'arresto Sermina è in prigione e tutti i detenuti la prendono in giro per il motivo per cui si trova lì. Nello stesso momento anche Atip entra nella sua cella, ma lui riesce a prendere in mano le redini della situazione, mentre Ilmas nel giorno successivo ha intenzione di capirci un po' di più sull'omicidio di Jean Gavier e quindi va in tribunale per avere più aggiornamenti possibili e per vedere se stanno procedendo con le indagini. Il giovane era legato al suo amico e ora vuole assicurarsi che gli sia fatta giustizia e che il caso non venga messo da parte, ma che l'assassino di Jean Gavier paghi per ciò che ha fatto. Così, una volta in tribunale, Ilmas apprende tramite il procuratore che sull'arma del delitto sono state rilevate delle impronte, le quali però non sono le stesse di quelle registrate dalla polizia. Il procuratore però rassicura Ilmas che, nonostante ci siano pochi fascicoli riguardo al caso, farà di tutto per arrivare alla verità e trovare il colpevole omicida e indacherà a fondo anche sul caso del cugino di Demir Erkumet. Dopo un po' di tempo e durante la conversazione tra la CAIA e il procuratore, la polizia informa al pubblico ministero della carcerazione di Sermin e Atip con l'accusa di adulterio. Notizia che lascia Basiti sia il procuratore che Ilmas. Saputo tutto ciò, Ilmas, dopo aver parlato col tribunale, si reca in ospedale per riportare le ultime notizie apprese a Mugigan. E lì c'è anche Sabati che ascolta tutto ciò che dice Ilmas, anche di Sermin, e non capisce a questo punto come mai la sua ex compagna non voglia accettare il suo divorzio. Successivamente Unkar, dopo aver saputo dell'adulterio commesso dai due, si reca in prigione per far visita a suo nipote e farle una ramanzina. Il mattino dopo invece Beice si trova al club con degli amici e quando Zuleyla arriva lì e si siede al tavolo con una delle amiche di Beice gliela presenta. Ma la zia di Mugigan rivela di conoscerla già e che da qualche sera prima hanno cenato insieme, passando anche una bella serata in compagnia delle due famiglie. Tuttavia, Beice anche in quell'occasione fa dei paragoni tra Zuleyla e Mugigan per screditare la giovane ragazza, sottolineando che sua nipote è una ragazza molto intelligente e colta. A questo punto, una signora prende quasi le difese di Zuleyla e dice che anche lei è di Istanbul e fa parte dell'associazione. Ma Beice non esita a mettere ancora di più in cattiva luce la giovane Zuleyla, avendo a che dire anche sulla posizione della ragazza all'interno del club, dandole dell'immigrata. Al che Zuleyla interviene per difendersi e racconta che dopo essersi sposata con Demir è, a tutti gli effetti, una cittadina di Adana e che adesso è a casa sua e che, contrariamente a Beice, lei ha messo su famiglia, sottolineando che in realtà l'unica straniera è proprio lei, visto che deve tornarsene ad Istanbul. Il mattino successivo Ilmaz e Zuleyla si incontrano al garage e lui le rivela di voler andare con Mujigan per non disturbare più lei. Zuleyla lo prega di non andarsene e di rimanere lì per fare che lei possa vederlo ancora tutti i giorni. E mentre il giovane si scusa con lei, Zuleyla con le lacrime agli occhi gli afferra la mano e lo supplica di non farlo, di rimanere, perché per lei sarebbe un altro colpo da mandare giù. Nel frattempo Demir è in ufficio e si trova costretto, a causa del suo nemico Ilmaz, a vendere le restanti quote dell'azienda ai tedeschi. Così il suo sogno di diventare un grande imprenditore mondiale svanisce in un batter d'occhio. Successivamente Zuleyla si reca da Dana per somministrare il vaccino al suo piccolo Adam, ma nel tragitto del ritorno, dopo essersi fermata per farlo bere, la sua macchina non riparte più. È rimasta in panne, ma fortunatamente proprio sulla strada sta passando Ilmaz, che si trova a vederla, ferma lì e si ferma immediatamente per darle una mano, al che, dopo averla esortata al fatto che deve cambiare un pezzo di quell'auto, la accompagna lui fino in villa. Qui assistiamo ad un incidente che colpisce Fadik. La giovane governante prende fuoco ad un braccio, mentre stava appiccicando il fuoco in giardino. Fadik viene soccorsa immediatamente dalla dottoressa Mujikan insieme a tutto il resto dello staff della villa. Nel frattempo arriva Zuleyla, accompagnata da Ilmaz. La ragazza scende dall'auto e ringrazia la Kaia per l'averla aiutata a tornare a casa, mentre Demir e Mujikan vengono presi da una forte gelosia e gli chiedono spiegazioni. Beyice, invece, nel frattempo intenta ad attirare l'attenzione di Fekeli. Il suo obiettivo è quello di avvicinarsi il più possibile a lui, conquistandolo. Così in scena una farsa per attirare la sua attenzione, fingendo di essersi slogato a una caviglia e chiedendogli durante una serata di portarla in ospedale. Ovviamente Alira Met, che è un uomo gentile, l'accompagna subito al pronto soccorso, senza sapere realmente le intenzioni della donna. Ritornata a casa, Beyice è al telefono con una sua amica di Istanbul e le rivela la farsa che ha inscenato per accappararsi l'attenzione di Fekeli, mentre Cetin, che è innamoratissimo di Gulten, è alle prese con il suo corteggiamento, al quale Gulten, nonostante il sentimento fosse reciproco, anche stavolta non cede alle sue avanze, rifiutandolo per l'ennesima volta. Le anticipazioni sono terminate e vi ricordo di lasciarci un like ed iscrivervi al canale per tutte le prossime anticipazioni della vostra serie turca preferita e vi saluto al prossimo video.